Oggi, 7 maggio 2057, il mondo è cambiato, non so se è un meglio o un peggio, ma sono curioso di sapere cosa avevano previsto loro, l'anima visionaria e forse profeta. E' giunto il momento di ricordare alla luce il valore segreto, sepolto per troppo tempo, montanze agli occhi, un uomo dignato. Questo è Jump the Future, questo è Leonira Project. E' giusto il mondo è un'altra, sepolto per troppo tempo, E' giusto il mondo è un'altra, sepolto per troppo tempo, E' giusto il mondo è un'altra, sepolto per troppo tempo, Autore dei sorrisi